Ciao a tutti da Diego di Teaganofan.it Oggi vi parlo della Cover 0.3 Ultra Slim di Puro Una cover che oramai è famosa diciamo nel mondo delle cover Perché è una delle prime arrivate sul mercato con lo spessore 0.3 di Puro Che diventa un pochino un acquisto obbligato diciamo per chi vuole un dispositivo protetto Ma sempre allo stesso tempo comunque senza rovinarne la sua estetica All'interno della confezione troviamo la cover Con una pellicola proteggi display e un pannetto per pulire il dispositivo La cover è davvero molto sottile 0.3 mm Vedete che è molto molto flessibile È fatta in silicone satinato e ha la comodità di avere un bordino proprio che contorna la fotocamera In modo da andare ad azzerare diciamo lo spessore che ha la fotocamera di iPhone 7 L'installazione è praticamente semplice Bisogna un pochino forzarlo perché è molto molto precisa Voilà E va ad incastonarsi perfettamente con le forme del nostro dispositivo Tra l'altro io ho una pellicola in vetro frontale di quelle totali con anche le parti diciamo in bianco E assolutamente non dà noia Anzi è proprio precisa al centesimo di millimetro E quindi devo dire che lo smartphone vedete è completamente protetto E non dà assolutamente nessuno spessore Diciamo che non si alza neanche il vetro Mentre alcune magari custodie vengono un pochino più avanti E possono andare ad alzare il vostro vetro Questo con questa non succede almeno con il proteggi display che ho io Nel retro come vi ho fatto vedere abbiamo questo bordino Sentite che ci permette di proteggere la fotocamera Aumenta notevolmente il grip del dispositivo Perché comunque questo effetto satinato in mano si sente Le dimensioni del dispositivo non variano assolutamente se non di poco Rimane visibile il logo dell'iPhone perché comunque è trasparente Qua in basso abbiamo la scritta puro Tutte le porte hanno degli ampi accessi Così come il tasto di accensione Il tasto del volume e il tasto per blocco e sblocco Diciamo della modalità sensuosa Adesso non mi veniva il termine Quindi che dire una cover davvero molto semplice Che la potete acquistare in tutti i negozi di telefonia Ad un prezzo di 12,99 euro Sicuramente io ve la consiglio È una delle cover che utilizzo maggiormente E che diciamo mai senza questa cover Per ogni dispositivo che posseggo Quindi ricapitolando Questa era la cover 0,3 ultra slim di Puro 12,99 euro E anche questo Visto che siamo in tema natalizia Potrebbe essere un ottimo pensierino da fare Ai vostri amici per Natale Ciao da Diego Grazie a tutti